Baronessa Elisa Silvatici si è soffermata molto sulle caratteristiche, oserei dire, poetiche dei dipinti. Una pittura che potremmo dire trasuda di poesia. È vero, lei ha avuto proprio l'impressione giusta, perché oltretutto la poeticità è insita in quello che è il pennello dell'artista, anche nelle metafore che si sottendono, così come non solo la poeticità ma anche la musicalità di un dipinto. Se lei vede il mare, rimane scontato il discorso di parlare di voce del mare, di voce sottesa. Poi del resto Leonardo da Vinci parlava della poesia, della pittura e del loro forte legame. Perciò stasera c'è stato veramente un trionfo sotto questo punto di vista, con anche insigni artisti. Io non ho potuto avere il tempo adesso di presentare i poeti, perché mi sono allontanata, ma poesie e pittura vanno di pari passo veramente, con grande soddisfazione del territorio, con grande prestigio, perché anche si sostengono i pittori, quelli che sono affermati, ma anche i pittori in fieri, in modo che dal confronto possa nascere anche l'evoluzione.